E dunque apriamo questa seconda parte di basket in diretta proprio con le immagini, mi segnalava il collega ufficiale che sono pronte le immagini della fine del primo tempo, gli ultimi istanti di gioco e dunque vediamo insieme il canestro di Gracis che porta sul 45 a 40, questa è l'uscita dal campo dei giocatori, vedete fino a qui tutto tranquillo. Poi all'improvviso Meneghin si accascia a terra, aveva appena segnato Gracis il canestro da tre punti del 45 a 40, ecco Meneghin a terra, gli arbitri sono intorno a lui, non si è visto nulla, vedete si tocca il capo ma non si è potuto vedere assolutamente nulla da queste riprese, come diceva già in precedenza Gianni De Cleva. Ancora assistito Dino Meneghin, poi come avete sentito Meneghin è stato portato all'ospedale, vedete che continua a toccarsi il capo, qualche protesta.